Ciao a tutti, benvenuti da Fortunato Trefiletti e benvenuti anche nella rubrica Traffi Advices. Ricordo che questa rubrica che posto sulla mia pagina Facebook è per tutti coloro che si avvicinano alla musica, quindi non ci sono dei contenuti molto importanti a livello armonico melodici, ma voglio dare la possibilità a chi suona già qualcosina o ha voglia di evolversi di trovare spunto in relazione ai brani o al materiale che è posto. Andiamo. Oggi voglio insegnare, voglio mostrarvi la scala cromatica. La scala cromatica è una scala formata da tutti e dodici suoni del nostro sistema musicale. Non ha tonalità perché da qualunque punto si parte, ogni suono che io vado a schiacciare può essere utile e può essere utilizzato nella tonalità in questione. Partiamo dal quinto tasto perché il tasto per eccellenza né troppo grande né troppo piccolo. Quindi avremo, la direggiatura sarà 1, 2, 3, 4, la stessa cosa, una corda giù, un tasto indietro. 1, 2, 3, 4, uguale, uguale. Qui invece non scendiamo un tasto giù, ma rimaniamo sempre nello stesso tasto, con la stessa diteggiatura, alla corda inferiore. E poi andiamo un tasto giù. Ve la dimostro. Tornando indietro. Questa scala trova applicazione in un solo dei Megadeth nel brano Sweet in Ballets. L'album è Come Down to Instinction. Letteralmente Mustaine suona questa scala in terzina, quindi fa così. Ciao.